Ciao a tutti, eccomi qui tornata con un nuovo video e oggi ho deciso di parlarvi dei pastello di Neve Cosmetics Mi scuso subito se appagio tipo fantasmino ma ho una luce bianca sparaflesciata in faccia perché la luce in casa oggi è veramente pessimo, fuori è nuvoloso e quindi anche per farvi vedere al meglio queste modi ho deciso di aiutarmi un attimo con la luce artificiale allora iniziamo subito, per chi ha seguito qualche mio video ha capito che amo alla follia questa marca innanzitutto perché è priva di parabeni, silicone, schifezze varie e poi anche proprio per la qualità dei prodotti oggi vi voglio parlare dei pastello che sono delle matite, occhi e labbra io vi parlerò solo di quelle occhi perché labbra ne ho solamente una per il momento che sinceramente non mi ha soddisfatto molto perché non è un colore che sta bene su di me questi occhi le adoro tutte le ho provate essenzialmente perché soffro di congiuntività allergica in questa stagione e per quanto io ami le matite long lasting di Essence e avendo tanta lacrimazione mi bruciano e comunque non tengono tantissimo quando ho problemi di allergia mentre queste matite non mi bruciano affatto e quindi da lì ho presa una e ne ho provate un po' allora vengono 4,80 euro che penso sia un rapporto con il prezzo eccezionale e iniziamo a farvele vedere allora la più classica, la classica matita nera, questa è l'Iguirizia ed è un classico nero è un nero intenso che nella rima dell'occhio mi dura davvero tanto e anche come eyeliner ha un'ottima durata diciamo questa è la più classica delle matite, è la prima che ho preso e da lì ho detto mi sa che devo prenderne altre poi altra matita davvero bella è questo verde un verde bosco appunto si chiama ed è questo colore c'è da dire che sono davvero morbidissime infatti oltre che come kajal o come eyeliner possono essere anche usate volendo come basa ombretto perché sono davvero morbide 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 poi un altro diciamo classico è questo beige che è cincilla e questo la utilizzo molto soprattutto come basa ombretto anche semplicemente per un trucco da solo vedete che bella poi è satinata anche per un trucco solo questa sull'occhio sfumata e mascara un trucco veloce ma carino insomma poi abbiamo la famosissima matita avorio che inizialmente pensavo fosse una cosa un po' inutile adesso non ne posso fare più o meno ed è appunto questo colore panna avorio leggermente satinata poi abbiamo corona un argento davvero davvero fantastica questa è una delle mie preferite perché ha dei riflessi argento pazzeschi non so se rendono dalla fot... cioè dalla videocamera ma ha dei riflessi davvero bellissimi infine presa con l'ultima collezione ho cielo che adoro che inizialmente dal tubettino cioè dal tappino potrebbe sembrare molto simile a bosco ma in realtà sono due colori veramente diversi questo è cielo e questo è bosco sembrano simili ma in realtà cielo è molto molto più chiara e mi piace di più c'è da dire però una cosa non tutte sono uguali in quanto a durata non so se sia un problema cioè un fatto di colori non so perché mi sono accorta che ligurizia e bosco sono in assoluto quelle che mi durano di più e sia come casal come liner come basombretto tutto mentre avorio nell'interno dell'occhio nella rima interna dura pochino e anche corona cincilla è ottima come base come eyeliner e anche questa nella rima interna a knee e cielo dura tantissimo forse quanto bosco in ligurizia devo dire per ora ho solamente queste e già ho nella mia wishlist altre matite anche perché vi ricordo che adesso verso la prima quindicina di luglio dovrebbe esserci mineral days e quindi per questo ho deciso di farvi qualche video riguardante Neme Cosmetics così magari vedete se c'è qualcosa che vi interessa e fate un bell'ordine con gli sconti e nei prossimi post vorrei nei prossimi video scusate vorrei farvi vedere la mia palette personalizzata neve e i pochi ombretti minerali che ho che spero di arricchire appunto con questa promozione fatemi sapere se voi l'avete provato se avete qualche colore da consigliarmi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao